Amici e amici del Corner Sampdoriano, bentornati. A 26 punti si respira decisamente meglio, vittoria che è ossigeno puro per la Sampdoria di Marco Giampaolo sull'Empoli di Aurelio Andreazzoli. Marco Giampaolo che da qualche anno si porta dietro questo fastidioso soprannome di maestro che ovviamente non si è scelto lui, che inizialmente gli è stato affibbiato anche con buone intenzioni per la capacità che aveva e ha di dare identità in pronta alle sue squadre, poi col tempo si è trasformato in una specie di dileggio, di presa in giro per gli scarsi risultati che aveva ottenuto a Milano e nella Torino Granata. Non sarà maestro ma è stato decisamente profetico nelle prime parole e nelle ultime parole spese dal suo ritorno alla Sampdoria. Appena tornato davanti ai cancelli di Bogliasco aveva detto spero di rivedere il Ferraris pieno come una volta ed effettivamente questo si sta verificando ed è decisivo per le sorti blucerchiate, per le prestazioni degli undici sampdoriani in campo perché insomma due vittorie senza subire gol contro Sassuolo ed Empoli due squadre difficili da maneggiare anche se arrivate in momenti non esaltanti a livello di risultati dei rispettivi campionati. L'ultima cosa, una delle ultime che aveva detto nella conferenza stampa pre Empoli era stata, riguardava Fabio Quagliarella che non sarà a detta di Giampaolo mai un problema per questa squadra. Effettivamente oggi è stata la soluzione per sconfiggere i toscani che si erano presentati come annunciato a Marassi con spirito sbarazzino, con attitudine offensiva, con identità chiara, un'identità che a vedere la partita da fuori tra le due squadre, quella di Marco Giampaolo sembrava più l'Empoli di questa Sampdoria che però lo sappiamo è ancora una squadra convalescente che deve conquistare innanzitutto risultati e che quindi deve scendere un po' a compromessi con il famoso integralismo del tecnico di Giulianova. L'ha detto lui stesso, non è il momento, non mi piace ma se serve perché mancano uomini, perché la situazione è particolare, cambio sistema di gioco, cambio attitudine tattica. Questo è successo e quindi Giampaolo che ha detto di stimare l'Empoli, di conoscerlo, è un ex, ha studiato bene le contromosse per rispondere alla squadra di Andrea Zoli. Sampdoria che è stata brava e fortunata, così come era successo col Sassuolo, a condurre la partita in modo efficace nei momenti decisivi durante i 90 minuti, perché insomma l'abbiamo visto, l'Empoli sullo 0-0 ha avuto delle occasioni importanti e se la prima l'ha sprecata Zurkowski su quel contropiede preso dalla Samp colpevolmente da calcio piazzato a favore, nell'altra ci è servito tutto il talento e la sicurezza debordante in questo periodo di Vladimiro Falcone. Iniziamo con la prima nota lieta di questo pomeriggio e dell'ennesima conferma del portiere romano che ha calato questa parata, questa uscita su Bayrami in un momento fondamentale della gara che a me ha fatto tornare in mente quella telecronaca fantastica di Flavio Tranquillo in una finale NBA che per definire una stoppata di LeBron James in una finale tra Cleveland e Golden State su Andre Iguodala aveva detto si oscura la vallata. Vladimiro Falcone ha fatto una cosa del genere, ovviamente parliamo di livelli molto più umili e ci mancherebbe altro, però mi piaceva richiamare questo grande momento di sport e di racconto sportivo per la parata di Falcone che poi ci ha messo sicurezza in tutto il resto della gara. Gara che la Sampdoria quindi ha scelto di interpretare in modo molto diretto, non si è vergognata a volte di abusare anche un pochino della palla lunga appoggiandosi su Torsby e anche su Abdelhamid Sabiri che oggi sostituiva Sensi indisponibile dell'ultima ora, è stata un'ottima prestazione quella del ex giocatore Dell'Ascoli che appunto da trequartista offre anche questa soluzione aerea, può staccare bene e quindi andare a contendere i palloni che arrivano direttamente lunghi dalla difesa. L'attacco che ha visto invece convivere nuovamente Quagliarella e Caputo. Era stato un grande tema del girone d'andata, D'Aversa aveva provato a schierarli insieme a inizio. Girone d'andata e la cosa al netto della gara proprio del Castellani contro Lempoli non l'aveva mai convinto. Spesso però il problema, o meglio, noto o notato questa differenza, D'Aversa gli schierava molto molto vicini come nei sistemi di gioco del suo amico Antonio Conte che fa sempre giocare le sue due punte molto vicine solitamente una più strutturata fisicamente e l'altra un po' più agile che gli gira intorno e gli gira sotto. Invece oggi Quagliarella e Caputo era come se fossero due colleghi che però lavorano in due uffici differenti, separati. Quagliarella lavorava sul lato destro e Caputo su quello sinistro. Credo non si siano mai passati il pallone. In questo modo sono stati efficaci. In particolare è stato devastante Fabio Quagliarella trovare il momento e lo spazio giusto per andare a fare male più o meno dalla stessa zolla e nella stessa situazione. La scelta è stata quella, e qui torno sul fatto di Giampaolo che conosce Lempoli e sa dove fare male, di provare ad allargare questa squadra che tende a essere abbastanza stretta sia in fase offensiva che difensiva, allargandola e sfruttando l'ampiezza è riuscito a dilatare le maglie difensive dei Toscani. Lì è andato a fare male, molto male Fabio Quagliarella che torna il gol e questa è chiaramente, ovviamente un'ottima notizia per la Sampdoria, per i tifosi, insomma una bella storia che ci unisce di nuovo tutti. Detto anche poi di Caputo che comunque fa il suo in questo sistema, ci tengo soprattutto a sottolineare il secondo gol come è nato, perché è stato un po' l'emblema del modo in cui la Sampdoria ha scelto di attaccare questo Empoli, ha provato a risalire il campo in quell'occasione manovrando palla a terra, ma andando subito molto verticale. Candreva ha ricevuto un pallone difficile da gestire, spalla alla porta, è andato un po' a memoria, alla cieca, con un scarico orizzontale di sinistro, cercando e trovando Sabiri, che si è fatto appunto pescare molto bene tra le linee, è stato molto asciutto e concreto nella gestione dei palloni, Sabiri ha dimostrato talento ma non ci ha messo Ghirigori e giocate barocche eccessive, ha subito smistato dalla parte opposta per Murru, poi di nuovo ampiezza da sinistra a destra con Berescinski, che è arrivato con lo stesso tempismo che ci aveva messo nell'azione del gol del 2-0 contro il Sassuolo. Sovrapposizione sulla discesa di Candreva, cross fatto coi tempi giusti, e poi insomma azione che si è sviluppata con lo stop e il tiro di Fabio Quagliarella. È stata una Sampdoria più di lotta che di governo, e in particolare in questo senso lo è stata la partita di Albin Ekdal, ritorno fondamentale, partita non scintillante dello svedese, che ci ha dovuto mettere più fase difensiva, più protezione dei due centrali, che costruzione, l'abbiamo visto impostare pochino, e soprattutto a volte, questo è stato uno dei difetti della Samp, a mio giudizio, è stato un po' lasciato solo dalle mezzali, sappiamo che Candreva non è una mezzala classica, non lo è neanche Torsby, a volte era un po' scoperto ai fianchi, Ekdal, Candreva e Torsby appunto l'hanno un po' abbandonato lì, Lempoli ha rischiato un po' di farci affette, Lempoli che ha un sacco di soluzioni per arrivare fino a tre quarti, poi però la fase difensiva pura della Samp e proprio del reparto difensivo è stata molto molto efficace, soprattutto a livello individuale, nel senso che sono stati tutti molto solidi, di partita sopra le righe di Alex Ferrari, invece grande conferma per Omar Colli, che sappiamo essere giocatore imprescindibile per il reparto difensivo, e aspettiamo ancora il ritorno di Maya Yoshida, evidentemente tornando su Abdelhamid Sabiri, ho notato un'azione particolarmente interessante, sul risultato già messo sul 2-0, è uscito dalla tre quarti, dalla pressione dell'Empoli, che appena perdeva palla riagrediva in modo feroce, ogni volta che il pallone arrivava in particolare ad Ekdal, era una specie di segnale per l'Empoli di far scatenare l'inferno a livello di pressing, in quell'occasione Sabiri ne è uscito in qualche modo con un sombrero anche di grande qualità, e lì ho rivisto la stessa azione che abbiamo visto contro il Sassuolo, interpretata in quel caso da Sensi, con il trequartista della Samp che produce una giocata di grande talento, in quel caso Sensi era uscito con un controllo a seguire a spalancarsi il campo da tre quarti per la verticalizzazione, lì sia Sabiri sia Sensi avevano verticalizzato su Caputo, la regia di Dazon aveva stretto sulla giocata del trequartista, e quindi scaricato il pallone da parte dello spettatore c'era l'attesa perché l'inquadratura si allargasse per capire che fine faceva questo pallone, in entrambi i casi il pallone era arrivato perfettamente tra i piedi di Caputo, che poi si era prodotto esattamente nella stessa azione, cioè uno contro uno, palla al piede contro il diretto marcatore avversario, entrando nell'area di rigore dal lato sinistro, quello di competenza di Caputo, doppio passo, palla sul sinistro, tiro sul primo palo, parata di consigli due settimane fa, oggi di Vicario che invece non è stato impeccabile nel 2-0 di Quagliarella. Quindi, ottime notizie, pomeriggio davvero di good vibes, di ottime sensazioni per la Sampdoria, ovviamente insomma salvezza tutta ancora da conquistare, ma ora si può andare a Bergamo con uno spirito discretamente ottimista, sarà lunedì 28 febbraio, senza però due giocatori importanti, gli squalificati per somma di ammunizioni, Antonio Candreva e Bartosz Berecinski. Grazie per essere arrivati fin qui, aspetto i vostri commenti qui sotto, come sempre.